oh fatemi partire fatemi partire oh yeah allora buonasera a tutti buonasera a tutti e forza inter come sempre come sempre forza inter forza inter sempre allora ragazzi inter batte sassuolo al mapei stadium di reggio emilia al mapei mamma mia le zebre le strisce pedonali stavo investendo gente della notte allora ragazzi io sono in viaggio verso casa allora che succede che succede cosa succede in città cosa succede in città allora un momento che ci traffico allora inter batte dicevamo il sassuolo a al mapei stadium minchia è caduto di tutto la spesa di tutto al mapei stadium di reggio emilia 2 a 1 la partita diciamo si è decisa nel secondo tempo ma un inter che sinceramente partiva fluida non passa signora tutto bene allora sarà una giuventina quella gente della notte i giuventini che oggi hanno vinto il derby si sentono sono gasati sono gasati 1 a 0 avete vinto il derby ha vinto il derby non è vinto un cazzo ancora il giuventino non è vinto un cazzo ancora non è vinto niente allora allora ragazzi top player cazzo succede cosa succede in città c'è confusione c'è qualcosa che non va allora ragazzi che succede un inter che ha deciso la partita nel secondo tempo però ragazzi c'è da dire c'è da dire un saluto a tutti gli interisti tifosi di calcio top player c'è da dire che un inter che ha cominciato il primo tempo con una manovra più fluida rispetto a Kiev rispetto alla partita con lo Shakhtar abbiamo giocato meglio più fluidamente più cioè non è che voglio dire che il Sassuolo è meno dello Shakhtar perché sinceramente poi se li prendi uno per uno non è che lo Shakhtar è questa grandissima squadra c'ha dei giocatori bravi tecnicamente però poi ragazzi è proprio questione di mentalità questione di mentalità non so cosa è successo poi in Coppa cosa ci succede però dai andiamo avanti andiamo avanti una partita decisa dal grande Zeko che ha fatto che ragazzi vi ricordo Zeko Edin Zeko sei gol in sette partite e l'Inter che vince la terza trasferta su quattro cioè ragazzi tre trasferte su quattro abbiamo vinto una l'abbiamo pareggiata con ragazzi buttiamola così all'ultimo all'ultimo ricordiamo lì in quel di Genova però ragazzi un Inter che vince la terza trasferta su quattro non è un Inter che non si scherza è un Inter che gioca per lo Scudetto gioca per vincere la seconda stella ed entrare nella storia nella storia dei grandi campionissimi cioè se già siamo una grande potremmo diventare più grandi ancora top player ragazzi top player allora che succede che succede in città te che fai a o ambazza allora ragazzi Zeko Zeko è entrato nel secondo tempo un Inter che è andata vicino al gol più volte nel primo tempo però è stato un primo tempo tra virgolette brutto perché abbiamo dato più che altro abbiamo dato abbiamo dato la faccia troppa faccia troppo troppa fluidità nella manovra a un Sassuolo che ci stava aspettando a un Sassuolo che quando ha cominciato a macinare sulle fasce ragazzi papà pia Santa Maria quando il Sassuolo ha cominciato a macinare sulle fasce abbiamo avuto difficoltà siamo stati in difficoltà cosa succede? cosa succede? Danfries a me piace Danfries è un top player può diventare un top player ha un'età giovane quindi è in crescita è un giocatore che è in crescita può crescere però per crescere deve imparare anche fase difensiva deve imparare come posso dire la tattica perché noi in Italia quando un giocatore arriva in Italia siamo un campionato molto tattico e se l'Inghilterra è il calcio più bello che c'è in Europa in Spagna il calcio più come posso dire tra virgolette più tecnico più tecnico più che altro io direi che in Spagna è più bello e in Inghilterra diciamo che è più veloce in Italia è il campionato più difficile perché ci abbiamo difese giochiamo molto sulla tattica ci serve a noi la tattica perché quella ci ha portato avanti per molti anni anche se se non ci adeguiamo se non ci adeguiamo siamo rovinati siamo nella merda perché in Europa ragazzi io continuo a dire che quest'Inter può passare il girone quest'Inter può scusate può fare la protagonista in Europa però dobbiamo essere più furbi e anche leggermente più fortunati perché perché dico questo perché sinceramente in Europa sono anni che non superiamo i cazzo di gironi e a proposito di gironi ci gironano le palle cioè ci gironano le palle sì perché ragazzi il girone è fattibile c'è questo sheriff in Europa che rompe i cojones a tutti ricordo non vorrei non vorrei fare un paragone col Birsheva sono due squadre totalmente differenti ma è una squadra che ragazzi fa paura e non bisogna prendere sotto gamba da una parte siamo fortunati perché abbiamo visto cosa ha fatto a Madrid in casa del Real e quindi sappiamo che può farci male quindi noi dobbiamo andare lì per vincere basta noi contro lo sheriff dobbiamo vincere basta tornando alla partita del Sassuolo dei Sassuolitani dei Sassuolesi è stato Edinzeco il nostro come posso dire quello che ci ha fatto cambiare rotta quello che ha trasformato l'azione in gol il primo gol di Zecco ragazzi racchiude racchiude in totem tutta la sua classe tutta la sua bravura poi si è procurato un rigore che l'ha trasformato il nostro Lautaro top player il nostro Lautaro cazzo sto facendo un video con la sigaretta vai così tranquilli non si potrebbe perché ragazzi non fumate mi raccomando top player però lo sto facendo perché torno a casa visto la partita sono stato al lavoro ho visto pure la partita al lavoro che succede? è un Inter che sinceramente ha ribaltato il Sassuolo nel secondo tempo è un Inter che deve dire grazie deve dire grazie sempre al nostro Marotta che ci ha portato un giocatore come Edinzeko che ci ha portato un giocatore un attaccante completo che ci ha portato un attaccante che ha meno forza fisica di Lukaku ma più tecnica ragazzi c'è da dire Interisti di tutto il mondo di tutta Italia giuventini di tutta la terra milanisti anche se il milanista trista già la faccia si va non si va più intristendo perché giocano per lo scudetto sono in Europa anche se le prendono di santa ragione però sinceramente il Milan non è che meritava queste partite queste sconfitte però va bene andiamo avanti tutti quanti tifosi di tutte le squadre Genova Sampdoria qualsiasi squadra d'Italia deve ascoltarmi dovete ascoltarmi perché quando faccio la morale sul calcio sul campionato ci dovete essere dovete cercare di contraddirmi anche se molti non ne sono capaci perché ragazzi bisogna sapere di calcio prima di fare un video se no stiamo qui che ne so a grattare la pancia agli alligatori siamo qui a pettinare a pettinare i leoni cioè ragazzi facciamo i seri cioè non stiamo qui a grattare le ascelle al cerco pitico siamo qui a parlare da calcio a parlare di un calcio che sta tornando bello perché ricordo che in Italia stiamo facendo un sacco di gol e non è solo perché le difese sono pacche come si dice è perché il campionato italiano sta crescendo sta crescendo il campionato italiano un Inter che oggi si trova seconda in classifica momentaneamente e che dobbiamo aspettare la partita del Napoli che ricordo scioccherà contro l'Atalanta e a mio parere a mio parere ragazzi top player top player questa è una bella chiesa comunque una cattedrale sto passando davanti una cattedrale della cameia si chiama praticamente un Napoli e suona anche avete sentito le campane un Napoli che gioca domani con l'Atalanta e che secondo me non può andare oltre il pareggio ragazzi non gli può andare sempre bene anche se ha un attacco ragazzi a me Osimè non mi piace ditemi quello che volete ma a me Osimè non mi piace deve crescere perché l'altra volta fece una doppietta ma sbagliò un gol solo col portiere e tirò troppo presto troppo presto però Osimè non mi piace ragazzi ha velocità ha senso del gol ha il fisico ragazzi è un giocatore che si può completare in Italia e che spero resti in Italia perché i grandi campioni li vogliamo in Italia anche se stai se giochi al Napoli alla Juventus a qualsiasi squadra ci piacciono i grandi campioni è un Napoli che secondo me contro l'Atalanta non andrà oltre il pareggio e ve lo dico da qui da qui ve lo dico da qui è un Napoli che ci porta ragazzi è a un punto sopra di noi è un punto sopra di noi se se e nell'eventualità se ragazzi dico se il Napoli domani perde c'è cosa che potrebbe anche succedere perché l'Atalanta ragazzi l'Atalanta vista contro di noi è stata spettacolare è stata una partita alla grande perché non feci il video perché ragazzi ero incazzato nero perché ragazzi ero incazzato nero perché fu una partita bellissima ma per chi la vede da esterno ma se tu vedi la partita da interista non so per i Bergamaschi ma se la vedi da interista quella partita lì è stata una partita che ti prende male perché poi abbiamo sbagliato il rigore va bene c'è stato hanno sbagliato anche sbagliò anche l'Atalanta alla fine potevano fare il 3 a 2 eccetera eccetera però noi sbagliamo un rigore che ci avrebbe portato il 3 a 2 ci avrebbe portato 3 punti contro l'Atalanta ma vabbè quindi è un'Atalanta in crescita un Malinowski che si è ripreso contro di noi cosa che succede a tanti e non ho capito il perché giocano contro l'Inter e danno il massimo non ho capito danno il massimo perché vogliono essere comprati dalla bene amata e così vogliono essere comprati dalla bene amata scusate quindi è un'Atalanta che può battere questo Napoli se perde il Napoli dicevamo siamo a un punto dalla testa della classifica ragazzi siamo a un punto dalla testa della classifica poi bisogna vedere il Milan cosa fa la Juventus abbiamo detto che ha vinto oggi 1 a 0 il derby il derby della Mole ma ragazzi hai vinto il derby sono tre punti in più ma sei sempre dietro Juventino tu Juventino sei sempre dietro e quindi ragazzi dobbiamo approfittare scusate questa era la Madonna ho trovato la Vergine bellissima questa qua è una Madonna bellissima per chi è credente per chi veramente poi gli piace la gli piace ad esempio l'architettura gli piacciono le cose belle eccetera è una Madonna bellissima questa qua si trova ad Arona Arona Casco sempre a Tenerife allora dico io la Juventus ha vinto il derby della Mole ma ragazzi hai vinto 1 a 0 non è che hai vinto non è che hai fatto la partita della vita cioè ragazzi diciamolo a questa qua diciamo a questa cosa qua vale molto di più la partita del Chelsea ma hai vinto col Torino 1 a 0 un Torino in crescita questo c'è da dire 1 a 0 hai vinto non è che hai fatto cioè ragazzi non è che sei arrivato lì hai vinto hai distrutto tutti hai fatto 4 a 0 il derby no 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 hai vinto 1 a 0 e quindi sei dietro sei sotto caro il mio Juventino sei sotto e noi siamo a un punto dalla capolista Napoli e se perde ripeto contro l'Atalanta cosa che può succedere siamo secondi ad un punto dalla capolista adesso io vi saluto giudo questo video con il nostro saluto uno e Varsalo grazie graziella e grazie a tutti e vi dico iscrivetevi a questo canale prima di tutto iscrivetevi a questo canale perché è l'unico competente di Youtube non ci può fare niente ci sono è così poi una volta che ti sei iscritto al canale una volta che ti sei iscritto al mio canale Dario Ferrante Youtube Top Player la luce ormai è andata Dario Ferrante Youtube Top Player ti sei iscritto al canale una volta che ti sei iscritto al canale metti like clicca 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 e condividi il video perché se non lo fai io ti trovo e ti spezzi isting ti spezzi ti spezzi isting top player top player allora io vi saluto con questo video mondiale a livello mondiale originale e vi voglio bene a tutti e grazie veramente a quelli che mi stanno vicino perché veramente io sono qui ancora a fare video grazie a voi e crescerà questo canale perché è in via di sviluppo è un canale in via di sviluppo Top Player ragazzi Top Player allora ragazzi vi voglio bene grazie graziella e grazie a tutti mi raccomando iscrivetevi al canale clicca 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 vi ho detto se no spezzi isting e condividi il video mi raccomando hai capito? Top Player vi voglio bene I love you Ti醒 naturally